Saranno recuperati e valorizzati i 21 immobili di pregio situati in Valdichiana grazie al progetto Case Leopoldine. Il piano di recupero, già avviato da Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana, l'unica quotata in borsa, è stato illustrato presso il Centro Convegni Sant'Agostino di Cortona alla presenza del Presidente della Regione Toscana. Bonifiche Ferraresi ha comunicato l'inizio dei lavori per la prima delle due ristrutturazioni che è in programma, il Centro Granai, e che sarà inaugurata alla metà dell'aprile prossimo. L'amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi ha annunciato la realizzazione di un centro direzionale per la lavorazione delle piante ufficinali e un programma di recupero di 21 fabbricati che si trovano sulle loro proprietà, 12 leopoldine e altri immobili rurali di pregio. L'azienda è passata da 20 addetti dedicati al ciclo produttivo dei cereali a superare le 70 unità e intende arrivare ad un raddoppio grazie al progetto di recupero del patrimonio immobiliare. La Regione sta accompagnando questo sviluppo con opere strategiche come la ricostruzione dei conci della diga di Montedoglio. La Regione ha finanziato i comuni di quest'area con 100.000 euro per predisporre un progetto in grado di dettare le linee guida per il recupero delle leopoldine.